pace e bene cari fratelli e sorelle bentrovati in questa 27esima domenica meditiamo sul testo di matteo 21 33 43 un testo molto forte significativo sono le parole che gesù rivolse ai capi dei sacerdoti del popolo di israele davanti al loro rifiuto sarà tolto a voi il regno di dio e lo sarà dato a un popolo che lo faccia fruttificare parole capaci di interpellarci e scuoterci vediamo un po ci troviamo all'interno del capitolo 21 del vangelo secondo matteo che contiene diverse diatribe di gesù con farisei capi del popolo sacerdoti del tempo gesù viene rifiutato non viene accolto e da lì a poco sarà consegnato per essere ucciso allora racconta questa allegoria che in un certo senso è una sintesi di tutta la storia della salvezza abbiamo un padrone che affida la sua vigna dei vignaioli perché a suo tempo ne rendano i frutti quindi il padrone parte e di tanto in tanto manda i suoi servi ma i vignaioli rifiutano di dare ai servi i frutti e prima li maltrattano poi addirittura arrivano a percuoterli il padrone non si rassegna continua a mandare i suoi servi sperando nel ravvedimento dei vignaioli a niente infine il padrone manda il figlio pensando avranno rispetto almeno di lui ma appena lo vedono arrivare i vignaioli pensano ecco costui l'erede uccidiamolo e avremo l'eredità chiaramente gesù attraverso queste parole non soltanto profetizza ciò che gli sta per accadere ma mira al ravvedimento dei suoi interlocutori chiaramente sta riassumendo tutta la storia della salvezza il padrone raffigura dio che dà e affida la sua vigna ai vignaioli la vigna un'immagine molto bella che esprime il rapporto tra dio il suo popolo dio infatti si è rivelato al popolo di israele al quale ha donato l'alleanza con lui la sua parola e affidato tutti questi beni al suo popolo in particolare ai responsabili e capi sacerdoti perché perché aiutassero il popolo a produrne i frutti ma che succede che quando arrivavano i profeti i servi del padrone richiamando il popolo affinché vivesse bene l'alleanza facesse la volontà di dio sul serio non avesse dio soltanto sulla bocca ma non nel cuore ecco che li maltrattavano li offendevano li perseguitavano li uccidevano perché perché erano scomodi infine il padrone ha mandato il figlio per salvarci per stipulare l'eterna alleanza con lui sperando nel ravvedimento nell'accoglienza da parte dei vignaioli ma niente ecco prima di andare oltre fermiamoci cosa ci dicono queste cose su dio e su noi stessi dio venne dipinto come qualcuno estremamente generoso che affida tutti i suoi beni preziosi ai vignaioli perché perché producano frutti buoni ecco la generosità di dio che non vuol fare tutto da solo ma ci affida i suoi beni ci affida se stesso la sua parola la sua presenza in mezzo a noi perché perché diffondiamo attorno a noi tanta bellezza e cosa succede che bussa poi al cuore che chiede i frutti di tanta grazia che ha donato ma trova rifiuto e che cosa fa non si vendica né si rassegna continua a bussare al cuore dei vignaioli continua a bussare al cuore dei suoi figli e non si rassegna davanti al loro rifiuto e continua ad insistere appunto che nella storia della salvezza manderà anche suo figlio che morirà e risorgerà come a dire io continuo ad amarvi sempre e comunque io continuo ad amarti sempre e comunque dall'altra parte abbiamo questi vignaioli che ostinatamente rifiutano qual è il loro problema il loro problema è che hanno ricevuto una vigna in dono e se ne sono impossessati rifiutano di rendere i frutti di ciò che è stato loro donato in ultima istanza rifiutano il loro padrone vogliono essere loro padroni di tutto possessori di tutto e non aver niente nessuno a cui rendere conto qui c'è qualcosa di serio a livello spirituale e anche umano a livello spirituale infatti che cosa c'è l'accaparrare tutto il vivere tutto come un possesso rinunciando alla responsabilità verso dio e verso gli altri rifiutando dunque di rendere conto della propria vita della propria responsabilità facciamo qualche esempio partiamo dagli interlocutori di gesù ecco gli interlocutori di gesù chi erano erano i membri del popolo di israele che avevano ricevuto in dono l'alleanza la parola del signore i comandamenti il culto molti di loro cosa avevano fatto vivevano tutto come qualcosa di dovuto del quale si erano impossessati qui abbiamo i capi del popolo quindi persin per sentirsi qualcuno per lasciatemi passare il termine far carriera ma profondamente non davano i frutti che dovevano conseguire a questa relazione con dio l'amore la giustizia il far la sua santa volontà fondamentalmente avevano dio sulla bocca ma non nel cuore e anziché prendersi cura degli altri vivevano passendo se stessi capite che a livello spirituale qualcosa che possiamo vivere anche noi cioè quando riduciamo tutto a possesso a uso frutto egoistico a fruizione intimistica ad esempio ci sono quelli che pregano partecipano a liturgie catechesi unicamente per sentirsi bene per stare bene con se stessi ma poi concretamente non c'è una sequela di gesù oppure c'è chi pensa di vivere di rendita perché è cattolico dalla nascita con il battesimo magari ha fatto il chirichetto da piccolo ma poi non c'è un concreto impegno un'adesione vera alla fede in cristo al vivere il vangelo questo può toccare anche noi sacerdoti se non si ha una vita spirituale profonda si può ridurre persino il sacerdozio a ricerca di se stessi anziché dono e responsabilità diventa un possesso un tutto e dovuto una ricerca del proprio tornaconto personale quante volte ad esempio assistiamo a autentiche corse alla poltrona anziché prendersi cura del popolo e rendere conto anche al vescovo un padre spirituale del del proprio operato tutto diventa finalizzato al proprio tornaconto personale persino le liturgie diventano sfarzo e sfoggio del proprio ego ma fondamentalmente sono dei manti che coprono una vita totalmente non evangelica pensate il tristissimo spettacolo di un liturgismo esasperato fatto di pizzi merletti colletti e salamalecchi ma che poi accompagnato da una vita lontana dal popolo non spesa per il bene delle anime questo può anche toccare la vita quotidiana cioè può diventare un modo di vivere dove io rifiuto di dare conto a chiunque della mia vita se mi taglio fuori da un rapporto vero e profondo con dio divento io il dio della mia vita se mi isolo e mi escludo dalla relazione con l'altro e dalla fatica che comporta anche la relazione con l'altro e la crescita che ne può conseguire non vorrò sentire ragioni spiego una persona può arroccarsi talmente tanto in se stessa da rifiutare ogni confronto ogni messa in discussione ogni correzione rifugire dalla responsabilità che comporta l'aver assunto un impegno l'aver ricevuto un dono l'avere un compito una missione da svolgere e rinchiudersi nella ricerca egoistica di sé aggravata da una mancanza di umiltà di una fragilità grande che portano la persona a non voler essere assolutamente messa in discussione ed ecco dunque persone che se la prendono appena chi hanno accanto prova a fargli notare qualcosa persone che non vogliono assolutamente aprire il proprio cuore con qualcuno che le possa aiutare che non hanno un confronto esterno che assolutamente neanche si confessano si lasciano condurre spiritualmente insomma persone che vivono arroccate in sé che vivono tutto come se fosse dovuto che rifiutano la responsabilità che ne consegue che in fondo in fondo si considerano dei piccoli padri eterni ma che in realtà sono delle persone profondamente fragili che stanno scappando da se stesse allora ecco la frase conclusiva di gesù che cosa farà il padrone gesù omette una parte violenta della risposta e dice toglierà a voi il regno dei cieli e lo darà a un popolo che lo farà fruttificare qui profetizzato c'è ciò che è accaduto effettivamente nella storia cioè al popolo di israele è subentrato o meglio è stato innestato il popolo della chiesa cioè le porte dell'alleanza con il signore si sono spalancate per tutti nella fede in cristo credendo in gesù tutti possono entrare in questa alleanza meravigliosa con dio fare esperienza del suo regno nel cuore entrare in una relazione profonda intima con dio stesso ma qui potremmo vedere anche un monito e concludo che ci fa svegliare un po tutti perché perché ci fa capire che dio non è un oggetto del quale ci si può impossessare dio bussa ma se non trova accoglienza certo continuerà a bussare ma continuerà a cercare porte aperte cioè il suo desiderio è che tanti arrivino a lui si salvino lo incontrino allora questo vuol dire che lo spirito santo soffia non lo puoi ingabbiare o pensare di possedere in virtù di non so quale diritto appartenenza a faccio qualche esempio l'europa che è stata culla della fede in questo momento un po abbioccata tranne realtà belle che il signore suscita mentre invece la fede è molto più viva in altre zone in altri contesti fino a un po di tempo fa ad esempio il sud america ora anche molto l'africa l'asia dove il signore viene accolto con gioia con entusiasmo ordini religiosi magari secolari si stanno spegnendo e magari a volte parte la domanda è ma perché ne nascono di nuovi ne nascono di nuovi perché alcuni ordini antichi magari non si sono rinnovati si sono un po anacquati mondanizzati hanno perso il carisma delle origini il fervore delle origini il signore suscita nuove realtà idonee alle sfide odierne dove il signore viene accolto con più gioia con più fervore e così via cioè dio non è un pacchetto che mi metto in tasca e faccio quel che voglio tanto lui ce l'ho nel cuore versione quelle persone che nella vita si fanno i fatti loro e si giustificano dicendo sì però io il signore ce l'ho sempre nel cuore beh su questa frase bisognerebbe riflettere ma dio non è un oggetto del quale io mi posso impossessare lui soffia bussa chiama a corrispondere se non trova accoglienza continuerà ad amarmi a bussare ma continuerà a soffiare anche altrove non è un diritto di pochi non è un possesso esclusivo di alcuni allora chiediamo davvero al signore che la parola di questa domenica ci smuova un po e ci aiuti davvero a svegliarci a riscoprire che dio ci ha lasciato ogni ben di dio la sua presenza nella chiesa la sua parola santi meravigliosi che ci hanno lasciato dei tesori immensi ecco che questo tesoro possiamo davvero farlo fruttificare ed essere pronti a rendere al signore i frutti che conseguono una relazione vera con lui che il buon dio vi benedica tutti pace e bene